Un'operazione che può rendere felici due club. La cessione del difensore Milan-Skrignar dalla Sampdoria all'Inter si riveverà positivamente sui nerazzurri e sul Pescara per l'inserimento chiave di Gianluca Caprari che passerà a titolo definitivo ai blucerchiati, quale contropartita tecnica dal valore di circa 12 milioni di euro per saldare parte del prezzo del difensore sloveno. Da un lato l'Inter può fare una plusvalenza di 7-8 milioni utile al fair play finanziario. Il Pescara ha diritto al 50% del prezzo di rivendita del cartellino e quindi 5-6 milioni finirebbero nelle casse del Delfino con la possibilità di finanziare una parte del mercato biancazzurro. Circa gli obiettivi in entrata, i prossimi giorni saranno decisivi per Simone Andrea Gans per il quale si aspetta la firma visto che l'accordo con la Juventus è stato trovato e Gans approderà in biancazzurro per un milione e mezzo di euro pagabili in tre rate annuali. Così come è tutto fatto con l'Inter per Coulibaly che passerebbe in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. I nerazzurri però vorrebbero dirottare il giovane senegalese in primavera mentre Coulibaly vuole giocare tra i grandi dopo aver debuttato in Serie A. Per questo la situazione è in stand-by. Ed ecco perché su Coulibaly sembra aver messo gli occhi ora anche il Genoa che medita di acquisire il cartellino del gioiellino della scuderia di Campli. Gioveni che invece saliranno nella Milano Sponda Nerazzurra sono i baby Marco Pompetti del 2000 ed il classe 2003 Lorenzo Peschetola. In caso di futura rivendita sui due ragazzi il Pescara incasserà anche in questo caso il 50% del prezzo. Presi dall'Inter Carraro e Palazzi, per quest'ultimo c'è anche l'ufficialità, nelle ultime ore il Pescara conta di mettere nero su bianco per il prestito dall'Atalanta del giovane Ivoriano Emanuele Lattelat. Successivamente sarà la volta anche di Cristian Capone, altro attaccante in prestito dal club orobico. Sempre nelle prossime ore la Sampdoria produrrà l'accelerazione decisiva per accaparrarsi Murro del Cagliari, ma l'operazione potrebbe non ripercuotersi come ipotizzato sulla cessione agli isolani di Cristiano Biraghi, visto che tra le contropartite tecniche inserite dai Brucercati c'è un terzino sinistro come Vasco Regini. Il laterale difensivo milanese resta comunque sul taccuino di Bologna e Udinese e fa parte di quel treno di giocatori con Zampano, Benalì e Memusciai che potrebbero lasciare Pescara.